Ciao ragazzi da Vittorio, si parla tanto di Kumbulla, difensore del Verona, ricercato da tutti, a gennaio sembrava un passo dal Napoli, adesso sembra vicinissimo all'Inter, anche la Lazio lo cerca, lo vuole anche la Juve. Uno dei problemi è che il Verona chiede una cifra altissima, si parla di 30 milioni di euro. Ma io in questo video voglio dire, voglio parlare, ma Kumbulla, gli vale veramente 30 milioni di euro? Questa è una domanda importante, perché soprattutto dopo il Covid-19, dopo il coronavirus, i prezzi del calciomercato sono scesi, eppure il Verona chiede sempre qualcosa come 30 milioni per un giocatore molto giovane, però al primo anno in Serie A, al primo, Kumbulla non è che da due o tre anni sta giocando ad altissimi livelli, questo è il primo anno in Serie A con il Verona. Sta giocando bene? Ma abbastanza! Ma gli vale questi 30 milioni? Ecco, secondo me uno dei problemi del calcio moderno è che molti parlano di calciatori senza averli visti. Dopo Verona-Cagliari, la prima partita dal ritorno, dalla pausa del Verona, leggevo un tweet di un sito di scouting, sai questi qua che professano di vedere tutti i calciatori eccetera, e parlava di Kumbulla, della partita del Cagliari, e diceva 5 contrasti ai rivinti, 7 passaggi fatti, 92% dei dei gol vinti, partita straordinaria. No, fermi tutti, fermi tutti. Il gol del Cagliari, l'unico gol del Cagliari, arriva su un erroraccio di Kumbulla, clamoroso. Kumbulla è 5 metri fuori posizione, tant'è che la palla arriva al centro dell'aria e l'attaccante è solo e segna davanti al portiere. Kumbulla non c'è. Ovvio, non è che puoi mettere in quelle statistiche dove fai il take, il numero di volte fuori posizioni, 5. No, non c'è quella statistica per cui queste cose non risultano. Però Kumbulla non si può dire che contro Cagliari abbia giocato bene. Sì, a parte il gol, ha giocato bene, però il gol è decisivo, il gol è importantissimo, no? E non si può dimenticare. Per cui non si può dire che contro Cagliari, ad esempio, Kumbulla ha giocato bene. Contro Napoli, il primo gol del Napoli, quello di Milik, su calcio d'angolo, Kumbulla guarda Milik e non lo marca. E l'uomo suo, è vero, il Verona difende a zona, però una volta che il giocatore è nella tua zona, lo devi marcare. Non è che difendi a zona, quindi vuol dire, io sono nel mio metro quadro e amo. No, se Milik entra in mia zona, lo devo marcare. Milik, se vedete, salta da solo, Kumbulla lo guarda così. Altro errore grave. Non solo perché il Napoli segna, ma perché un difensore centrale deve marcare. Non si può far fregare così. Ecco, tutto questo per dire che, a mio avviso, 30 milioni per Kumbulla non li vale proprio. Allora, ragazzi, se Kumbulla vale 30 milioni, Luis Felipe quanti ne vale? 80. Perché è giovane, sì, Kumbulla è un po' più giovane, ma Luis Felipe sono tre anni che sta in Serie A. Mica un anno, tre anni, titolare della Lazio che lotta per lo scudetto. E il brasiliano è un signor giocatore, se Kumbulla ne vale 30, e Luis Felipe ne deve valere almeno il doppio. Per cui, a me, questo fa riflettere, nel senso che Kumbulla non può mai valere quella cifra. Non può mai valere quella cifra. Non solo, aggiungo io, a quella cifra la Lazio non lo deve prendere. Perché sì, magari Kumbulla migliora, è giovanissimo, fra un paio di anni diventa fortissimo, eccetera, eccetera. Ma per 30 milioni adesso non ne vale la pena. Non è un rischio che la Lazio si può prendere. A quella cifra è un giocatore da Inter, no? L'Inter abbiamo visto spendere tanti soldi per giocatori che non sempre hanno dimostrato quel valore. Faccio un esempio. Lukaku è un buon attaccante, ma per me 68 milioni di euro non li vale mai. Non li vale mai. Ragazzi, Lukaku è il classico attaccante che segna contro le squadrette e contro i big non segna mai. Ecco, Kumbulla a 30 milioni di euro, secondo me, è un prezzo folle. So che non rispecchia il valore del mercato. Qualcuno può dire che in prospettiva può migliorare, sì, ma secondo me fra un anno può valere 30 milioni. Adesso è un rischio, anche perché è il primo campionato in Serie A. Nessuno ci garantisce che l'anno prossimo faccia bene, anche perché, e ve l'ho evidenziato, ultime due partite, due gravi errori di Kumbulla. Due gravi errori di Kumbulla. Questo giocatore, promette bene, ha valori interessanti, ma ha dimostrato di non essere questo fenomeno che dicono tutti. Purtroppo nel calcio moderno si tende a pompare alcuni giocatori. No, va di moda. Va di moda e quindi Kumbulla è fortissimo. Come Chiesa. Chiesa l'anno scorso sembrava Messi. Quest'anno stiamo vedendo che Chiesa è forte, ma non è assolutamente Messi. Probabilmente non so neanche se sia un giocatore da Juve. Ecco, Kumbulla, secondo me, rischia di diventare quel tipo di giocatore. Io, onestamente, credo che Tare e 30 milioni di euro non li pagherà mai. Però, secondo me, è la valutazione eccessiva in generale, non solo per la Lazio. Per cui, attenzione, se la Lazio non dovesse prendere Kumbulla, io non mi dispererei. Perché, ripeto, il giocatore ha potenziale, ma ha fatto anche due errori gravissimi nelle ultime due partite. Questo è il mio pensiero, e tu che ne dici? Scrivi uno e commenti qua sotto. E mi raccomando, se ti piacciono i video, condividili. Ciao, alla prossima.